Ok, eventualmente questo è un episodio di GTA, bla 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 Ecco Missione, da sapere Padre e figli C'era davvero seriosi Cosa? Tu sei qui, che cosa, senti Tu non mi sembravi ancora? Mano, non ti sembravi mai, è solo una riposizione Ok, ti chiedi quello che vuoi chiedere, non mi importa Cosa faccio per te? Si, io vengo per vedere se c'è qualcosa che posso aiutare con te Vedo che sei bene per te sei Ecco, sono riusciti Non ti sei un po' vecchio per la pia, la scoperta e stare a una f***a nascita? Sì, io sono in questo gioco per molti anni E ho scoperto E ho scoperto E questo mi è la vita migliore Tu sembra un buon figlio Ma se vuoi il mio consiglio Dicete la piazza Si lavorate forte Scraverai tutti quelli che ti amano Cosa, roba Cosa, indiscriminazione E magari, magari, se tu è successo Tu diventa un gancho di trepidio Cosa Cosa Perchè 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 Trazione in quanto? Non. Mi sono scoperto in un'80s movie fantasy. Si, posso vedere che hai spento molto tempo qui. Asi che posso. Quindi è per cui sei qui in Vinewood, certo? Talvez che sono qui perché sono solo un idio. Credo che imporzare le pezzi sono un buon sostituto per non sapere cosa stai a fare su questa terra. Jesus, tu sei un buon tempo, tu lo sai. Sì, è vero? Sì, è vero? Cosa? Il pietro è stato scoperto? Cosa stavo cercando di vendere! Cosa che non vuoi, ma ho bisogno di vendere! Ma ho bisogno di vendere! Ma non vuoi vendere, ma vuoi prendere! Mi scopo in la mia! Tu sei lo scopo! Allora, vengo! Per il mio volto! Allora, allora! Un'ambito di plan, mio figlio è in problema! Non mi piace stare a questo, figlio! Sì, io te aiutare! Vieni! 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 no 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 Sì, non è vero. ma tu freddy vedi con me ah scusate mi sono insistito per un attimo si cercano di capire dove sono i vestiti al piano di sopra scusate scusate ma questa porta è chiusa questa è aperta perché è la stanza di mia figlia che non c'è poi viace la stanza di mio figlio qua c'è il bagno ti sto spiegando da casa franky e di qua c'è camera mia poi camera mia camera mia è di mia moglie oh si michael tu vai in giro con questa basta hai anche dei no michael tu sei un figo basta anche le polo non sono male con te michael no non mi dire che non hai pantaloni, ah è vero ci hai, sono io idiota è vero questo ho preso io ok michael possiamo andare mi chiamo michael andiamo franklin no aspetta voglio uscire per di qua sono michael no non si può ok usciamo per di là ok ora siamo dei fighi mi manca solo tre e ora siamo tutti mo aspetta devo fare un selfie perchè siamo vestiti bene no 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 aspetta no non ti girare ogni volta ce la devo fare non mi dire sono al contrario ecco questa mi piace ok l'altra forse la cancella non dai a te mi piacciono tutte ecco ora che siamo vestiti tutti bene si va a salvare mio figlio ok bro franklin rimane con me am franklin no non ti girare ogni volta shit mutterfuckers sarebbe fortunato per sentire in a bath shit thing's that desperate huh aww, ma no shit i was making a point mythologizing self-deprecation i know it well yeah man but shit where the boat at little shit's been hijacked there's somewhere on the western highway man ain't you worried about my boat yeah i am but you can always buy another boat yeah tell my accountant that man you can always get credit for one but have you come repo it no thank you Ok, no, perché io una volta avevo visto un episodio di uno youtuber che diceva Nell'episodio precedente, cioè prima ha fatto fare missioni casuali, no? E ha detto che nella missione prima aveva ripreso la barca che aveva rubato a Michael Ma non aveva detto che c'era pure Franklin, quindi ci sono missioni da fare insieme Ma che siamo arrivati? Sì, ora ci si vedi! Sì, siamo arrivati! Sì, siamo arrivati! Sì, non è un paio che ci si vedi, sei il partito della bordo Più che vedi il partito di un'azienda di un'azienda di un'azienda di un'azienda ok solito dai 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 no ho ucciso franklin spiegami come faccio portarlo sulla barca cioè non devo portare accanto devo lasciarmi dritto dietro la barca allora ecco 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 bugare bugare una ruota non ci provo perchè sennò magari poi perdo la missione dai franklin dai grande franklin oh cavolo ok pensavo di dover cambiare ecco 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 dimmi che riparte da più tardi non da quando vedo la barca dai no che palle ecco io posso ea scusa franke no ma non è possibile it's impossible c'è sto facendo tutti i piso di pd fei l'amore normale emissioni non è salto cioè non posso dai è una serie sulla campagna non posso saltare le missioni devo fare beh c'è stato basta che cerco di non andare a sbattere sì sì non so che ti devo portare più vicino vai grande fuck 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 kid shit 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 get your ass out of here not the engine shit fucking engine hey stop throwing assholes at me man the lifeboats you pricks he's a useless little shit he's a useless little shit but he's my useless little shit no no